Ok breaking news, è arrivato Ciuschi, è arrivato Babbo Natale stamattina, ho preso questa lente 55-250 con stabilizzatore, comunque questi sono dei modelli abbastanza economici, questa costa 250, la versione senza stabilizzatore costava 100 dollari usata oppure 120-130 nuova Lo stabilizzatore funziona bene, questa lente è 4.4 di apertura fino a 5.6 con lo zoom al massimo Quindi non è come il mio bellissimo obiettivo 1.4 1.4-50 mm, questo va benissimo per fare i volti delle persone, le cose, però questo qui serve per catturare gli animali lontani Così Poi, niente Posso far vedere la scatola Un video molto veloce quello di oggi E' F55 is stabilizzato nuovo su Amazon E poi Colgo l'occasione, mi hanno scritto in moltissimi Mi hanno scritto in moltissimi, ho qualche occasione di salutare Jessica, ha 13 anni, mi segue sempre, ho detto che mi riconoscio il meglio non posso Poi Volevo anche salutare Francesca e Jonathan Amici, colleghi di Flavio Quello di graphic.it Andate tutti in un sito molto bello Poi anche Flavio è molto bello Poi Altri saluti, vorrei salutare Pier Silvio Berlusconi che mi ha scritto una lettera, ha detto che sono bravo, mi vuole conoscere, mi vuole far lavorare da lui Così Poi mi ha scritto Borghezzi, anche lui Non lo conosce, bla 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 Allora, per i momenti tutto, ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti